Allora, apriamo Illustrator, nuovo documento, postiamo, deve essere in pixel, larghezza a piacere, altezza mille pixel. Qui lasciamo tutto così come sta e iniziamo. Allora, la prima cosa da fare sul documento di Illustrator è impostare le guide per la font. Allora, adesso prendo una font a caso così vedo più o meno le altezze. Cominciamo. Abbiamo le discendenti, la linea di base, l'altezza delle X e le ascendenti e l'altezza delle maiuscole. Quindi, questo è quello che dovete avere voi prima di partire a disegnare la font. Poi, cominciamo a disegnarci la font qui su Illustrator e ci avremo poi il risultato che è quello che deve essere in base alla font vostra. Adesso prendiamo, per esempio, solo, facciamo questi. L'importante è che rispettate le dimensioni. Mille pixel deve essere tutta l'altezza a partire dalla discendente all'ascendente. Quindi, una singola lettera non sarà mille pixel, a meno che la vostra font non abbia tutta un'unica altezza. Quindi, una volta disegnate le prime lettere su Illustrator, ci assicuriamo che siano tutti tracciati chiusi. Devono essere con riempimento, non devono essere soltanto tracce. Quindi, figure chiuse. Devono essere in scala di grigio. Niente, poi che facciamo? Apriamo FontLab, facciamo il nuovo documento e ci si apre la finestra dei glifi. La prima cosa da fare è impostare il documento di FontLab. Quindi, andiamo su File, FontInfo, andiamo su Matrix and Dimension, apriamo, ok, Dimension. E qui ci andiamo a settare quelle che sono le altezze delle guide che abbiamo creato prima su Illustrator. Quindi, torniamo su Illustrator. Posizioniamo lo 0 su la linea di base. Se non avete i righelli aperti, me la R e apri dei righelli. Quindi, prendiamo da qui lo 0 e lo trasciniamo sulla guida delle linee di base. Poi, sblocchiamo le guide. Selezioniamo questa qui e ci assicuriamo che l'altezza sia 0 perché questa è la linea di base. Poi, cominciamo. Le discendenti. Altezza in pixel. Non mettete le virgole, altrimenti FontLab impazzisce. Quindi, 218 pixel. Andiamo su FontLab. Discendenti. Negativo per casa sotto la linea di base. Meno 218 pixel. Poi, altezza delle X. C'abbiamo 533 pixel. 533 pixel. Poi, altezza delle maiuscole. C'abbiamo 742 pixel. Proprio di che, ascendenti, ci abbiamo 782 pixel. 782. Andiamo ok. E cominciamo. E cominciamo. Avremo il primo glifo, facendo doppio click. Per esempio la F. Doppio click. E quindi abbiamo le guide che avevamo costruito prima. Discendenti. Linea di base. Altezza delle X. Maiuscole. Ascendenti. E questa rossa che crea automaticamente FontLab, che è l'occhio medio. Quindi, a questo punto che facciamo? Torniamo su Illustrator. Selezioniamo la nostra lettera. Mela C. La copriamo. Torniamo su FontLab. Mela V. E incolliamo. Eccola qui. La trasciniamo. E la posizioniamo in modo che sia su linea di base. Le coordinate. C'è 0, quindi vuol dire che appunto poggia su linea di base. La sistemiamo adesso più o meno come il riferimento sotto. Non è importante, tanto poi dopo si aggiusta tutto con la metrica. Abbiamo importato la lettera. Mela S. E salvate il file FontLab, che è VFB. Lo salvate. Chiudete. E ecco qui la lettera. Quando un glifo è stato aperto almeno una volta, è bianco. E vabbè, appare la lettera dentro. Facciamo così per tutte quante le lettere. Una volta che abbiamo impostato tutte quante le nostre lettere su FontLab. I numeri, la punteggiatura, eccetera. Andiamo qui. Glifo Space. Apriamo e spostiamo praticamente questa guida. Così ci impostiamo quello che è lo spazio della barra spaziatrice. Una volta impostati quindi tutti i nostri glifi, lo spazio, eccetera. Passiamo alla metrica. Quindi, selezioniamo una serie di glifi. Windows, New Metric Windows. E abbiamo questa finestra con le nostre lettere. Da qui sotto possiamo decidere la grandezza della font. Qui possiamo cancellare, scrivere. Volendo ci abbiamo già set preimpostati. Quick Brown Fox, per esempio. Possiamo scrivere. Eccetera. Cominciamo con la metrica. La metrica, come funziona? Selezionando la lettera, ci appaiono due guide. Una indica lo spazio prima della lettera. E una lo spazio dopo la lettera. Quindi possiamo trascinare la lettera. O spostare le guide in modo da impostarci lo spazio. Oppure andiamo direttamente qui sopra. Questo pannello si apre così. E impostiamo i valori numerici, se abbiamo dei riferimenti numerici. Questa è la metrica riferita a ogni singolo glifo. Ogni singola lettera. Lo spazio anche. Quindi se io cambio per esempio la metrica dell'h. Vedi, io ho un'h qui e un'altra h qui. Se io aumento lo spazio prima della h, tutte le h all'interno della font cambiano giustamente. Perché si tratta della singola lettera. Una volta sistemata quindi la metrica su ogni singola lettera, passate al kern, che è quest'altro qui. Il kern invece funziona a coppie di lettere. Ad esempio, prendiamo la h e la e. Clicco in mezzo. Posso avvicinare la e alla h. O allontanarla. E questo sarà riferito non alla e, ma alla coppia e h. Infatti, se vedete qui io ho ev, se io vado a spostare il kern su e h, ev non cambia. Ma cambia e h qui. Vedete? Quindi il kern è delle coppie di lettere. Quindi se voglio andare a cambiare questa, devo andare a spostare qui. E come vedete, quest'altra e non è cambiata. Quando il kern è negativo rispetto alla metrica, visualizzate questa barra blu qui sotto. Se invece il kern è positivo, la barra è gialla. Quindi, in teoria dovreste farvi il kern per tutte le coppie di lettere. A, 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 B, A, C, A, D, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. Vedete voi se vi va a defallo, se non vi va, come vi pare, insomma. Una volta sistemati, quindi, avvicinamenti, kern, metrica, eccetera eccetera eccetera. Passiamo al salvataggio della font. E facciamo. Torniamo sulla finestra dei glifi. File, font info. E andiamo invece su nome e copyright. Family name sarebbe la famiglia appunto della font. Quindi, ad esempio, kill sans, elbetica. Quindi, il nome generale della famiglia. In questo caso, onnunciario. Questa è la forza d'asta della specifica font che state costruendo. Quindi, se è un regular, un book, un normal, un bold, eccetera eccetera. In questo caso abbiamo un normal. Lasciate 400. Qui, se è la larghezza della font, quindi, se è un condensed, un extended, un ultra, quello che, insomma, la dimensione della font. Normale. Style name. Questo è lo stile che viene visualizzato all'interno del programma di videoscrittura. Quindi, quando avete onnciario, e qui appare appunto regular, italic, bold. In questo caso è un regular. Una volta impostati questi. Premete il pulsante con il diamantino verde. Bold names. E automaticamente lui crea il resto del menu. Se volete cambiare, questa è la fonderia, il nome visualizzato nel menu, il nome completo, eccetera. Insomma, potete anche lasciare tutto quanto così. Date ok. Dopodiché, fate file. Genera font. Selezionate OpenType. Qui potete inserire il nome del file. Quindi, comunque, anche se io qui ci scrivo Pippo, vedrò un file che si chiama Pippo, ma una volta importata all'interno del sistema, nel programma di videoscrittura, comunque io leggerò onciario perché l'avevamo impostato nelle impostazioni del nome della font. Salvate, ci avete il file OpenType, lo inserite nel sistema col metodo che ci avete voi, se è Windows all'interno della cartella font, se è Mac con libro font, o font explorer, o l'altro gestore font che vi interessa. Avrete un qualsiasi programma di videoscrittura, e nell'elenco troverete anche la vostra font. E così funziona FontLab. Non basta! Grazie.